attrazione magnetica le quattro coppie di seni zodiacali che si attraggono di più in questo video voglio spiegarti quali sono le quattro coppie di seni zodiacali che si attraggono in più in un'attrazione magnetica allora prima però iscriviti a tutti i miei canali youtube massimo tra masco crescita personale felicità benessere amore autostima attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e seguimi anche su tik tok ovviamente su instagram pagina massimo tra masco allora in questo video appunto ti spiego quali sono le quattro coppie di seni zodiacali che si attraggono di più si attraggono di più fisicamente e diciamo non è detto che poi possano sfociare le storie d'amore importanti anzi spesso è il contrario comunque troviamo ariete e gemelli ariete gemelli sembra quasi incompatibile viste le paranoie del secondo e la forza impulsiva propulsiva propulsiva del primo ma da un certo punto di vista da un punto di vista sessuale è come dire si attraggono perché gli opposti si attraggono e questa l'attrazione nasce proprio dagli opposti seconda coppia troviamo il toro e lo scorpione due anime che vanno in direzioni parallele il toro ha la passione forte anche lo scorpione vive solo di passione il toro è più testardo e diciamo come possiamo dire anche più posato segno di terra però è una coppia fatta l'uno per l'altra e poi troviamo il sagittario capricorno possiamo dire che questa è una coppia che fa scintille magari nelle relazioni non funzionano perché sono molto diversi ma proprio questa diversità di li mette diciamo su un piano molto interessante e con un'attrazione fisica veramente molto forte e poi troviamo l'acquario e i pesci l'acqua i pesci il segno più romantico dello zodiaco se vogliamo l'acquario un segno più libero e assieme si creano quell'alchimia data dalla differenza diciamo che l'attrazione si basa proprio sulla differenza perché nelle relazioni a lungo termine chi si somiglia si piglia ma nell'attrazione nella passione sono gli opposti che si attraggono e ti ricordo di iscriverti a tutti i miei canali youtube attivando la campanella così riceverei la notifica dei nuovi video digita massimo tramasco e mi trovi e poi seguimi su instagram e su tiktok sempre massimo tramasco ciao a tutti